Bentornati amici, un saluto da Luigi Ducchi, oggi ci occuperemo di wibitalia.it, lo store che poco tempo fa mi aveva mandato dei device, questa volta si è superata, mi ha mandato una confezione enorme con dentro veramente tanti dispositivi, quindi via via andremo a vedere tutti i loro device e poi magari vedremo anche qualche automazione con la nota applicazione Smart Life, poi eventualmente vedremo anche se si integrano all'interno di Home Assistant. Oggi è il turno di una grandissima plafoniera che non entra nell'inquadratura, quindi ve la farò vedere tra poco, che è qui accanto a me, una plafoniera molto particolare perché integrata al suo interno ha anche un ventilatore regolabile a tre velocità, 40 W per quanto riguarda l'illuminazione, tre gradazioni Kelvin che vanno da un bianco caldo ad un bianco freddo passando per un bianco neutro e la potenza del ventilatore è di 20 W con appunto le tre regolazioni di velocità. e che quindi sarà possibile gestirle mediante un telecomando che è incluso nella confezione, ma anche tramite la nota applicazione Smart Life e quindi si potrà gestire l'accensione e lo spegnimento delle luci, le velocità dell'eventro, insomma una serie di funzioni veramente molto importanti. Dimensioni ragguardevoli per quanto riguarda questo dispositivo, 60 di diametro, 17 cm di altezza, alimentazione 230 V. Non perderei dell'altro tempo, andrei subito ad aprire il pacco che è veramente grande e poi mi dedicherei alla messa in funzione di questo dispositivo. Ecco questo è il pacco enorme che vi dicevo, quindi non entrando nell'inquadratura faccio una inquadratura un po' diversa dal solito e vediamo subito le dimensioni di questa lampada che sono gigantesche. Questo è il primo pezzo che correttamente imballato vi verrà spedito all'interno della confezione, sarà la cover sopra che la spostiamo, anzi la apriamo subito per andare a vedere il contenuto interno. Vi ricordo che Wibi sul proprio sito mette a disposizione tutte le schede tecniche, le certificazioni per essere tranquillamente vendute nel nostro paese. Questa è la plafoniera, diciamo la parte che sarà visibile della plafoniera, la appoggiamo da una parte un attimo e andiamo a continuare ad aprire la confezione, c'è un grande libretto di istruzioni che spiegherà tutte le funzioni del dispositivo e anche la modalità di accoppiamento. Dentro, continuiamo ad aprire, troviamo invece il corpo e il radiocomando, anzi telecomando infrarosso che è possibile da sfruttare al posto dell'applicazione, si potrà gestire la lampada anche mediante questo telecomandino che vedete qua, avrà tutte le stesse funzioni che si potranno trovare anche nell'applicazione Smart Life. All'interno della confezione ci sono anche delle pile, i tasselli di fissaggio per la plafoniera e poi qui abbiamo il vero e proprio corpo del dispositivo che vale ad aprire. Quanto mi piacerà rompere le buste in una maniera incredibile, ecco qua. Ventola che sembra essere molto silenziosa, poi la proveremo una volta collegata e questa è la plafoniera, come notate 17 cm di spessore sono derivati anche dallo spazio necessario alla ventola di girare, quindi è stata lasciata un bel po' di aria dal soffitto diciamo alla basetta di fissaggio da qua prenderà l'aria che poi andrà a spararla nella parte inferiore, quindi non ci rimane che andare a montare il dispositivo e poi una volta montato andremo ad installarlo sul muro, anzi sul soffitto di una camera di casa mia. Eccola qua la lampada montata, questa parte qua è praticamente ad incastro, si inserisce e poi si ruota per andarla a chiudere e la parte sotto anche questa ha queste tre viti laterali che bloccano il disco che va fissato sul soffitto che si può rimuovere, ovviamente qua abbiamo la morsettiera dove c'è linea, fase e neutro da notare che ha anche la terra quindi non è il doppio isolamento ma deve essere collegato alla messa a terra questa parte va fissata sul soffitto e poi i cavi di collegamento vanno inseriti in questa morsettiera dove poi sarà alimentata. Abbiamo anche un bel gancio di sicurezza che si dovrà applicare a questa asola qui in modo che il dispositivo se si dovesse accidentalmente sganciare comunque il peso verrà tenuto dalla piastra che a sua volta è fissata sul soffitto mediante questi quattro tasselli. Bene, non ci rimane che metterla in funzione. Ecco l'applicazione Smart Life, o Tuya Smart sappiamo essere la medesima cosa, sarà l'applicazione necessaria per utilizzare questa lampada con ventola, io l'ho già accoppiata ma comunque per accoppiarla sarà necessario semplicemente dare corrente alla lampada, la lampada inizierà a lampeggiare nel caso che non lo facesse staccate e riattaccate la corrente alla lampada per tre volte consecutive e di conseguenza entrerà in fase di accoppiamento poi premete il pulsante più, aggiunge dispositivo, illuminazione e scorrete fino a quando non trovate ventilatore, il primo, bluetooth più wifi e poi seguite le istruzioni al video ma sono sempre le stesse istruzioni per tutti i device smart di Tuya Smart e Smart Life, dovrete sicuramente inserire la vostra SSD e la vostra password della rete wifi e poi farà in automatico l'accoppiamento con il dispositivo. Bene, apriamo il device e troviamo subito la possibilità di andare ad accendere la luce ora magari riduco la luminosità perché altrimenti nel video non si vede benissimo mettiamola proprio al minimo, questa è la luce fredda, è possibile mettere varie gradazioni Kelvin da 2700 a 6500, quindi la luce molto calda come si vede malamente nel video perché ahimè la luce non viene ripresa perfettamente. Molto bello che dal video non si vede questo effetto glitterato sulla plastica che circonda i led all'interno che rendono un ambiente molto più carino da vedere, ad occhio nudo si vede molto bene nel video, non si riesce a vedere. È possibile gestire anche la ventola ovviamente quindi nel sottomenu del dispositivo ci sarà anche il ventilatore, possiamo farlo partire semplicemente cliccando sul pulsante apposito, eventualmente è possibile andare a regolare l'intensità, come vedete c'è la percentuale scritta sotto, fino ad arrivare ad un minimo di 1% che è praticamente ferma. È possibile anche andare ad invertire il senso di marcia della ventola, ecco questo se utilizzate questo dispositivo come ventilatore ha poco senso, ha senso nel caso che l'ho utilizzata in accoppiata con un climatizzatore, sapete benissimo che l'aria fredda va verso il basso e impostando la ventola al contrario essa andrà a risucchiare l'aria, quindi andrà a prelevare l'aria fredda da terra per portarla verso l'alto e quindi puoi spararla sul soffitto, diciamo che farà circolare più facilmente l'aria fredda in accoppiata ad un climatizzatore. Generalmente invece se decidete di utilizzarlo come semplice ventilatore sarà da impostare il senso orario e che quindi sparerà l'aria dall'alto verso il basso. C'è un'ulteriore modalità che sinceramente non ho capito a cosa serva, dovrebbe simulare diciamo un risparmio energetico o una ventilazione più naturale, non ho ben capito ci sono queste due modalità, ma a me personalmente risultano perfettamente identiche, non so se poi magari qualcuno troverà delle differenze. Comunque dal menu in alto a destra è possibile andare a fare le classiche funzioni che si trovano in tutti i dispositivi Smart Life e quindi andare a sostituire il nome, ci daranno le informazioni del dispositivo nel menu successivo. Scena istantanea e automazione, si potrà creare delle automazioni ma in questo caso non c'è niente, le automazioni si creeranno direttamente qua nella schermata scenario dell'applicazione Smart Life o Tuya Smart e successivamente si potrà vedere anche di abilitare una notifica offline, ovvero se il dispositivo va offline ci arriverà una notifica direttamente da Smart Life che ci indicherà appunto che il dispositivo non è più sotto connessione. Si potrà condividere dispositivi con altri account, questa è una prerogativa proprio di tutti i device Smart Life e poi ci sono varie altre funzioni, aggiunge la schermata Home ad esempio per creare una sorta di widget e oppure si potrà andare a controllare la rete Wi-Fi oppure anche aggiornare eventualmente il firmware del device anche se a me è arrivato direttamente con l'ultima versione disponibile. In fondo come ultima opzione la possibilità di rimuovere il dispositivo dall'account. Qua abbiamo anche la possibilità di regolare una schedulazione, quindi un timer di accensione e spegnimento sia per quanto riguarda la ventola che per quanto riguarda la luce e eventualmente si potrà ricevere una notifica quando questa schedulazione verrà abilitata, quindi è possibile anche andare a programmare un orario che andrà a svolgere la funzione in maniera del tutto autonoma. Anche l'integrazione con Home Assistant è praticamente perfetta, si evidenzieranno due entità che una è appunto la lampada e dalla quale si potrà selezionare sia la luminosità che la temperatura di colore. E poi c'è anche la possibilità di gestire la ventola, la ventola verrà gestita come uno switch e poi ci sarà anche la possibilità però di andare a regolare l'intensità da 0 a 100%. Bene amici anche per oggi è tutto, vi ricordo di seguirci sui nostri canali www.vincenzocaputo.com troverete il nostro blog e mettete una spunta sulla campanella YouTube, ogni volta che pubblicheremo un video così verrete notificati. Un saluto, alla prossima amici, ciao!